mi riconoscete no eppure sono in molti a portarmi sulle loro spalle tutto il giorno e si sa io ne combino di tutti i colori però quando entro in un negozio o in un ristorante tutti mi riservano un'accoglienza calorosa perché porto la carta american express carta american express per richiederla prendete un modulo dovunque la carta è accettata carta american express non uscite più senza delay